salve a tutti e benvenuti in un nuovo video ASMR oggi cercherò di rilassarvi 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 con il brushing al microfono brushing 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 tic 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 bene cominciamo subito con il video 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 rilassati, rilassati senti questi suoni e rilassati, rilassati 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 Grazie a tutti. 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 Se per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video.